e la concentrata e poi acqua assaggiate la peciocca e la peciocca ma quando mi ha messo tutti i ingredienti e poi mi ha messo l'acqua e poi dove ti porto a metà poi naturalmente la controlliamo questa deve cuocere un quarto d'ora questa è già a tua calda lo dico perché nel buonentore va a faccita questa fa un quarto d'ora deve cuocere un quarto d'ora io naturalmente dopo un quarto d'ora questo è adesso vieni qua in sorella ti voglio insegnare come si taglia la pasta la staglia lo vuoi fare tu? no ma io lo so la staglia è così come viene viene la staglia è la staglia andate